Poste e progetto Polis per 8 comuni a Ritusei, uno sportello unico per servizi semplici e veloci. Prende il via Polis, il progetto ideato da Poste Italiane per fare degli uffici postali una casa di servizio digitale, uno sportello unico che renderà semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7.000 comuni e al di sotto dei 15.000 abitanti. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Giorgia Maloni, del Segretario di Stato della Santa Sede, del Cardinale Pietro Paroline, di numerose esponenti del Governo e delle istituzioni, il progetto è stato illustrato dalla Presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina e dall'amministratore delegato Matteo Delfante ai 7.000 sindaci dei comuni interessati. Grazie a Polis è finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Poste Italiane dà un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri per renderle più accoglienti e trasformarli in sportello unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24. I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di Stato civile, la carta di identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati providenziali e giudiziari e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Rilevante la partecipazione del sindaco siciliano a Roma con oltre 200 presenze all'evento. Tra gli otto primi cittadini intervenuti per la provincia di Sinacusa anche il sindaco del comune di Solarino, Giuseppe Germano. Siamo felici di partecipare a questo grande evento, dichiara, grazie al quale Poste Italiane dimostra ancora una volta grande attenzione al ruolo dei piccoli centri. Il territorio di Solarino in particolare da qualche mese ha un ufficio postale totalmente ristrutturato e un nuovo ATM Postamat a disposizione della comunità. Siamo soddisfatti che l'impegno prosegua grazie a un ampio progetto con ricadute così importanti su tutti i cittadini.